I 5 Stelle ti invitano a pensare all'ineleggibilità di Berlusconi, la sua opinione personale? Io a quello ci penso già da me stessa da medesima, non ho bisogno di suggerimenti e comunque ho chiesto a alcuni componenti della Commissione Affari Costituzionali del Senato di avere oggi uno scambio di idee su questa attuazione dell'articolo 49 perché vorrei che anche da parte loro ci fosse una riflessione comune, quantomeno sul senso di questa proposta.